Nuove linee e nuovi percorsi per il trasporto pubblico locale a Civitavecchia. Decisione presa all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale per un servizio che non veniva cambiato da più di 40 anni, visto che da allora anche la città ha subito variazioni urbanistiche considerevoli. CSP, la società che si occupa del trasporto pubblico, è potuta intervenire al nuovo tracciato grazie ai suggerimenti dei cittadini che hanno potuto usufruire del servizio gratuitamente a partire da metà settembre e che verrà prorogato fino all'8 di ottobre, giorno in cui sarà attivo definitivamente il nuovo piano, proprio per dare possibilità all'ente di modificare ulteriori accorgimenti. Abbiamo ridisegnato alcune delle linee, alcune delle frequenze, alcune degli orari che così come ci hanno consigliato, abbiamo ora ogni quartiere a due linee dedicate a propria disposizione che raggiungono il centro, in particolare la cattedrale, ripristinato il passaggio in cattedrale di 5 linee, ridisegnate alcuni orari, servite alcune parti che ci avevano segnalate come via Parmino Togliatti, via Le Pietro Nenni, anche San Liborio ha due linee, ha una linea express dedicata e la linea gialla. Il quartiere invece di Borgata Aurelia, via Tirso e Braccionese Claudia ha di nuovo due linee e addirittura riusciamo a servirla anche la domenica mattina, laddove prima non era possibile. Quindi diciamo un aggiornamento 2.0 che ci impone in questo momento di dare un ulteriore periodo di prova di una settimana e queste prime modifiche entreranno in vigore a partire dal lunedì prossimo. Per tutta la prossima settimana sarà di nuovo gratuito il servizio, quindi chiediamo a tutti i cittadini di provare anche questa nuova versione 2.0 del piano e poi dal 7, mi sembra dal 7 di ottobre entrerà definitivamente in vigore il piano e quindi tornerà ad essere a pagamento. Ci tengo a dire che non c'è necessità in caso di cambio di autobus di fare un nuovo biglietto, il biglietto è a tempo, dura 90 minuti e, fatti tutti i dovuti calcoli, non c'è nessuna destinazione del TPL che necessita di fare due biglietti.